Estra e MiMoto lanciano a Firenze con 50 mezzi totalmente ecosostenibili e facili da guidare il servizio di scooter sharing elettrico per due passeggeri made in Italy già attivo a Milano, Torino e Genova. È nata in pronta Estra, newsletter dedicata ai temi della sostenibilità, un nuovo canale di dialogo e di informazione per comunicare ogni tre mesi iniziative, obiettivi e risultati raggiunti da Estra in materia di sostenibilità. Estra, Ussi e SG Plus e Chirettin Partners lanciano la quarta edizione del premio giornalistico Estra per lo sport per servizi diffusi su TV, radio, carta stampata e web tra il 15 dicembre 2019 e il 30 giugno 2021. La banda ultralarga sbarca a Calenzano, sono a conclusione i lavori di Estracom nel comune fiorentino per portare direttamente la fibra ottica all'interno di oltre 6.000 abitazioni e in più di mille aziende.